Al giro di Boa l'Aquila Rugby si è presentata con il vento in poppa e 23 punti in cambusa che ne fanno la capolista in contrastata del girone 4 del campionato di Serie A di Rugby. Per la prima giornata di ritorno i neroverdi saranno di scena domenica 6 novembre a Roma sul campo della Capitolina, terza in classifica con 13 punti. All'andata finì 36-12 per i ragazzi di Rotiglio e Troiani, ma guai a sottovalutare l'avversario perché le insidie sono sempre dietro all'angolo ed è importante mantenere il record di imbattibilità che finora in Serie A è detenuto dall'Aquila e dal rugby Colorno, capolista del girone 2. Entrambe le formazioni hanno conquistato 23 punti nelle cinque giornate di campionato disputate finora. Fondamentale poi arrivare a punteggio pieno alla prima pausa di campionato. Il prossimo match infatti si giocherà il 4 dicembre al fattori contro il Pesaro. Per la Gran Sasso Rugby invece, match complicato in casa della seconda in classifica, la primavera rugby. Sul campo di Villa Sant'Angelo per i grigiorossi d'obbligo la vittoria per accorciare le distanze che li dividono dai vertici della classifica e proseguire il buon cammino nel campionato che, dai nuovi promossi, stanno onorando nel migliore dei modi.